Casper Ud, da Norvegia, ringrazio! Diciamo il match contro Félix Auger Aliasim. Grazie, è stato un buon match contro un giocatore. È un giocatore e uno dei prossimi genitori, proprio come me. All'inizio ho avuto un break nel primo set, e poi ho avuto più confidante. Ho giocato con le piazzate, e è stato facile per me giocare bene dopo il primo set. Sono entrambi Next Gen, e ha preso confidenza dopo il primo set, è stata una grande vittoria, che è stata conclusa con un secondo set di 6 a 0. Diciamo la tua famiglia, in particolare il tuo padre, numero 39 nel ranking ATP. Sì, è un giocatore, mio padre, è il miglior giocatore in Norvegia in storia, con il 39 ranking in ATP. Quindi, ha sempre stato uno che mi motiva e che mi guardo. Ho cercato di imparare da lui, e lui ha cercato di insegnarmi, cosa crede che devo essere migliore. Quindi, è una grande relazione, e il mio obiettivo è di essere migliore di lui. Allora, è stato sicuramente il miglior tennista della Norvegia, gli ha insegnato tante cose del tennis, e c'è una grande relazione, un grande rapporto con lui. Il suo obiettivo naturalmente è di diventare migliore del padre. l'Italia. Gli piace l'Italia? Gli piace la città? Gli piace la città? Gli piace le persone? Sì, credo che è un grande paese, e un paese molto bello. Abbiamo la piazza, la costa, un po' come la Norvegia, un po' più calma qui, ma è una buona città, una buona storia, una buona cultura, sicuramente. Ma ieri non hai giocato molto bene nel football, io credo, contro il Liverpool. Hai perduto. Il tuo ultimo, il tuo obiettivo, nel challenger in Francavilla? Ovviamente, in ogni quale vai, vuoi fare tutto bene come puoi, e questo è per vincere tutto il torneo, ma ora sono nella quarterfinal e cercherò di fare il mio migliore nel mio prossimo match. Ma, ovviamente, sono qui per fare il mio migliore, e, ovviamente, spero di vincere, ma non posso dire che vincere, ma sempre spero di cercare il mio migliore.